Notizia bomba dell'ultima ora a Milanello. Nessuno se lo aspettava questa mattina. Preparati a rimanere a bocca aperta con l'annuncio. Questa notizia esplosiva promette di scuotere la giornata di tutti i tifosi rossoneri. Ma prima di rivelare tutti i dettagli, voglio che lasciate un like e vi iscriviate al canale. Così, vi assicurerete di ricevere tutte le principali notizie e aggiornamenti sul Milan in anteprima. Non perdete nessuna novità. Il Real Betis ha rifiutato un'offerta del Milan per il centrocampista Johnny Cardoso, e il valore proposto era di 10 milioni di euro inferiore al prezzo richiesto, secondo un rapporto. Anche prima che Paolo Fonseca fosse scelto come prossimo allenatore del Milan, c'era un'enorme enfasi sul fatto che il centrocampo avesse bisogno di essere rafforzato in termini di fisicità. Si cerca un giocatore con una mentalità più difensiva, qualcuno che possa aiutare a proteggere i quattro difensori. Secondo Deportes Copesevilla, il Milan ha messo gli occhi su Johnny Cardoso, un centrocampista di 22 anni che è emerso come obiettivo negli ultimi giorni a causa delle difficoltà, nell'ingaggiare altri obiettivi. Il club spagnolo chiede 30 milioni di euro per vendere Cardoso, ma l'offerta dei rossoneri è stata di 20 milioni di euro, quindi c'è una grande differenza tra il prezzo richiesto e l'offerta presentata dalla dirigenza. Un'osservazione interessante è che il giocatore internazionale degli Stati Uniti ha anche un passaporto italiano e, quindi, se fosse ingaggiato dal Milan, non occuperebbe l'unico slot non UE, perché Straingia Pavlovich ha preso l'altro. Il giocatore nato a New Jersey ha fatto 17 apparizioni in La Liga nella scorsa stagione, essendo arrivato nella finestra di trasferimento invernale, e ha ottenuto tre contributi di gol, più precisamente un gol e due assist. E voi, tifosi rossoneri, cosa ne pensate di questa situazione? Il Milan dovrebbe continuare a puntare su Johnny Cardoso per rafforzare il centrocampo, o sarebbe meglio esplorare altre opzioni? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e discutiamo insieme di questa decisione importante. Forza Milan!